Siamo la prima grande città italiana per crescita turistico-culturale, seconda a Matera e ci fa piacere molto che due città del sud, una più piccola e una più grande, siano in vetta per cultura e per turismo. Tanti viaggiatori vengono nella nostra città, tante offerte culturali, basta vedere il programma di questo inizio di primavera, è straordinariamente positivo nella nostra città e credo che i margini di miglioramento sono ancora tanti. Per essere primi, avendo messo in campo una parte importante del potenziale, continuiamo così coinvolgendo tutta la comunità, tutti i cittadini, soprattutto i giovani, credo che questa città in questo modo crea posti di lavoro, muove economie e fa sviluppo valorizzando e preservando le sue bellezze.